salve a tutti ragazzi ben ritrovati qua sul canale di battle for games oggi siamo con dello ancora con dello su fifa per iniziare una nuovissima serie portieri goliador portiere goliador signori una serie che vi emozionerà sempre su fifa 15 ovviamente in cui abbiamo il portiere che farà la prima punta con questa fantastica rosa oggi abbiamo il tridente neymar andanovic sanchez andanovic è il primo nostro elemento il nostro portiere gola d'or le regole di questa serie allora oggi faremo due partite faremo due partite per l'episodio in ogni episodio dobbiamo cercare di fare almeno due gol con il portiere portiere che in questo caso andano oggi andanovic deve fare due gol per superare la sfida se fa gol una qualsiasi altra persona della nostra squadra che sia neymar o che sia sanchez o che sia di maria e dobbiamo quittare la partita finisce lì quindi anche se arriviamo davanti alla porta con neymar o sanchez dobbiamo aspettare andanovic e passarla a lui i rigori li batterà ovviamente andanovic è tutto così quindi lasciate un bel like se vi piace questa idea scriveteci nei commenti i portieri che volete vedere ovviamente e iniziamo ecco l'andanovic provano provano prova tira avrò io hai visto che hai il classico io cazzo mi ero confuso aspetta che c'è il classico e del te l'ho visto la velocità scartola scartola si scartola la velocità fatta perso è forte deve essere lui è il campione di germani samir prima che ci arriva non lo prenderà mai però ci stiamo avvicinando già alla porta e mi piace sta cosa ti ho visto e anche devi l'ultimo giocala subito giocala subito non correre ok l'ha già fatto andare in danovic prende danovic non posso fare gol non posso fare gol dai prendi rigore devi prendere andanovic dov'è andanovic è il centro campo ma che cazzo fa c'è si è un baggato i nomi si ogni tanto no fuori gioco arbitro non uscire però non importa prendere gol ragazzi è il primo tiro cioè l'importo però l'obiettivo è fare gol come me non ci interessa dove vuoi le scalpe no è buono è buono lì ho ho preso pochissimo è scarso lui non ci credo provala è tua no si no si è buggato attenzione vai attenzione si è scartato dio andanovic stai facendo gol venivano signori fenomeno dai ragazzi devi fare un gol almeno un tiro andanovic alle stelle poi giusto c'è ma se è troppo forte maria ragazzi ma ce la faremo fare un gol scudo per esempio il bene è quello adesso col te la merda oh vai no me l'ho ucciso rigore grazie poi la butta via è gioco gioco allora io faccio aspetta e franco non mi ha scritto possibile andato mi riccio andato mi riccio andato mi riccio andato mi riccio signore e signori hai fatto tutto te te lo sei passato hai fatto il gol se lo prendevi non era rosso era viola no rigore l'ho stagato al novantesimo del avevo una possibilità forse di rimediare a due a due con la mano facciamo parlare ad andanovic no no non si può bene vado a destra ma vai a destra che vai sul segno eh ma me la sentivo però te la sei sentita bene me la sono sentita male che cazzo fa zapaletta dopo il colpo di zapaletta vabbè comunque un gol l'abbiamo fatto ci vediamo la prossima partita cioè tra 3 secondi abbiamo trovato il secondo avversario se fa pronto ok l'abbiamo trovato per me adesso è solo l'originale questa passo il giro si perchè è quella tra la troca si è la seconda la vera maglia la anche io ci deve sempre essere Schurlen Runei di Maria da Barclays oh tira la boom no ho provato il pallonetto perchè il pallonetto non ha andato il pallonetto è andato comunque se partiamo così esatto io voglio una due oh fai la finta il tiro fintato l'ha fatto Dio il tiro in giro ragazzi ci stiamo avvicinando molto vedremo saccagna non tira perchè non tira sei sicuro che ce l'hai giusto il buono il tasto si ti giuro da lì Dio miracolo da fuori di 6 km anche qua vai cazzi suoi da se rientra dai devi farla x di eh lo so è fatta però questo qua è arrivato un po' a mina non l'avevo mica anche visto ti 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 si ti 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 l'estate il posto eccolo giri di sinistro io la legge d'azienda torre non sto parlando non c'è non è possibile l'ho rotto se fu espulso spursa non è possibile per quanto per armi l'estate non è andata luce Vai vai Ancora Va finita Tira Non ci credo No è il bug ragazzi È tutto buggato Per questo episodio è andato male Mannaggia Un solo gol ad Andanovic Però ha preso la traversa La traversa ci ha punito Quindi Andanovic Bocciato Non ha passato la sfida Iscriveteci nei commenti Come abbiamo detto prima I prossimi contendenti A questa magnifica sfida E Per questo video Un pallonetto iniziale Di me Se faccio gol Per questo video è tutto Lasciate un buon like Se vi è piaciuto E Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti